E' con grande piacere questa mattina che accogliamo nei nostri studi l'avvocato e mental coach Massimiliano Arena che ci presenta il suo libro intitolato Il secondo tempo della tua vita. Buongiorno Massimiliano, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, lo vediamo nel led, la copertina appunto del tuo ultimo lavoro, Il secondo tempo della tua vita. Un libro Massimiliano che nasce da un desiderio, quale? Ogni qualvolta si scrive un libro, c'è il desiderio di buttare fuori qualcosa che hai accumulato nella tua esperienza. La mia esperienza è duplice, quella di avvocato matrimonialista, anzi con un termine molto brutto avvocato divorzista e quindi io ho preferito scrivere avvocato di famiglia e poi nel volontariato come avvocato di strada. Nell'uno o nell'altro caso io mi occupo di biografie da ricostruire. Un uomo o una donna che vedono purtroppo fallire un'unione coniugale o un progetto familiare e dall'altra parte un senza fissa dimora che desidera rientrare nel tessuto sociale. In entrambi i casi si parla di persone, di biografie che vanno ricostruite e alle quali è giusto dare anche con un tocco di misericordia una seconda chance, una seconda opportunità. Quello che mi spaventa alle volte è che la prima parte della biografia di una vita di una persona condanni quella persona a un destino ineluttabile. Non è così, c'è sempre, soprattutto per noi cristiani, c'è sempre la possibilità di cambiare in meglio. C'è sempre un secondo tempo, potremmo dire, per mutuare anche il titolo del libro che rappresenta un concetto apparentemente semplice ma davvero molto molto potente. Qual è? Io sono amante dello sport. In due sport in particolare che sono il calcio e il tennis c'è sempre la possibilità di cambiare le sorti di un incontro. Nel calcio è molto più semplice da spiegare. L'allenatore scende negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, attacca al muro qualche giocatore che sta giocando male o solleva il morale della squadra. Così come pure nel tennis. Noi tutti abbiamo visto le gesta di questo splendido tennista che è Yannick Sinner che all'ultima finale del grande slam era sotto di due set e poi ha quel click con lo switch per vincere tre set di fila. Questi sono esempi della possibilità attraverso la quale ognuno di noi nei momenti di crisi, nei momenti di maggiore sconforto, di turbolenza può trovare delle energie che magari credeva di non avere e in realtà le abbiamo tutti quanti. È il motivo per cui molti di noi compiono gesti eroici senza essersi mai definiti eroi. E' il motivo per cui spesso io richiamo la metafora del deserto, di colui il quale va nel deserto nonostante la tempesta e a piccoli passi arriva alla fine del deserto. Questo è il concetto di secondo tempo, la possibilità che in qualsiasi momento dell'attività, se tu lo vuoi, perché chiaramente la scelta deve essere una scelta di volontà, puoi cambiare le sorti di un destino che molti definiscono immodificabile. A chi è dedicato questo libro? A chi è dedicato anche in generale? C'è una dedica particolare che è mio papà, che è stato nella sua vita per me un grande esempio di resilienza, di testardaggine, di origini garganiche, di Monte Sant'Angelo, quindi come tutti quelli che vengono da quel paese ha una dote innata di testardaggine ed è dedicato a tutte le persone, uomini e donne, che nella mia vita, nel mio studio legale, hanno avuto la forza e il coraggio di cambiare. Lo dedico oggi in particolare a Samantha, una mia cliente di origine garganica, che adesso si è trasferita in Australia con la figlia, che è riuscita a liberarsi da un orco, da un uomo, che maltrattava la sua vita e la vita di sua figlia. Samantha ha avuto il coraggio di trasferirsi dall'altra parte del mondo, di ricominciare. Adesso è un poliziotto, anzi una poliziotta. Sua figlia studia in un college. Questo è stato per me, quando ho ricevuto proprio pochi giorni fa, il suo ringraziamento, grazie a te, grazie al coraggio che mi hai dato, perché un avvocato di famiglia non è soltanto quello che scrive carte o va in tribunale. Un avvocato di famiglia è quello che ascolta il dolore di una donna, di un uomo che vuole ripartire. Questo libro è dedicato a mio papà e a tutte le persone come Samantha. Io vorrei, ascoltandoti, ci diamo del tu Massimiliano, volevo chiederti se anche nel matrimonio, vista la tua esperienza di avvocato, c'è un primo o un secondo tempo oppure se si gioca una partita unica? No, non c'è una storia, una vicenda umana in cui si possa giocare una vicenda unica, sarebbe troppo riduttivo. Non potremmo credere in quello in cui noi crediamo come cristiani. Il matrimonio è qualcosa che ha un tempo ogni giorno che ti svegli, ha più tempi. Giorni fa leggevo un post bellissimo di Fiorello dedicato alla moglie, di quanto la moglie sia stata importante nella sua vita. C'è quel famoso detto, quanto è importante una donna nella vita di un uomo. Tra l'altro lì si dice con una metafora un po' brutta, quanto è importante una donna che sta dietro l'uomo. No, la donna sta accanto e alle volte anche davanti all'uomo. Questo è anche per me nella mia vita matrimoniale, perché ho una donna che ha avuto la forza, la determinazione di mettere ordine nella mia vita. Ma è una sfida continua, è una partita, è un tempo che si riapre ogni giorno. Quindi non può essere assolutamente una vicenda unica, sarebbe troppo monotona. Quando è monotona, spesso poi quelle persone si ritrovano nello studio di un avvocato di famiglia. È una partita di tennis, quindi con più game. Bravissimo, bravo. È un'ottima metafora. È una partita di tennis, è assolutamente sì. Massimiliano, prima appunto ci parlavi delle due persone alle quali hai dedicato questo libro, Samantha e naturalmente il tuo papà. Il concetto del secondo tempo nella vita spesso ci richiama a considerare grandi esempi di resilienza, in questo caso un esempio personale, il tuo papà, e esempi di coraggio, tanti esempi che l'umanità ha prodotto nel corso della storia. Uno dei più illuminanti, e tu lo citi, è quello di Nelson Mandela. Voi immaginate oggi che qualcuno vi dica per 27 anni, da oggi, tu sarai in una cella e non uscirai fin quando non cambierai idea. Questa per me è un'idea che mi fa letteralmente andare, come si dice, ai pazzi. Quest'uomo per 27 anni, per tenere fede a una propria idea, a un proprio principio, è stato rinchiuso in una cella. Per me è un grandissimo esempio di resilienza. Il premio Nobel che gli hanno dato, quello La Pace, in realtà è un premio Nobel alla resilienza, al coraggio di difendere le proprie idee, sapendo che ci sarebbe stato un secondo tempo. E il secondo tempo della vita di Nelson Mandela è stato un secondo tempo meraviglioso, fatto di tribunali della riconciliazione della pace, fatto della vittoria del Sudafrica ai campionati mondiali di rugby, fatto di rinascita di un popolo e della coscienza di comunità. Però ci vuole tanto coraggio. Significa mettere da parte molto al servizio della comunità. Esempio importante, davvero quello di Nelson Mandela. Assolutamente sì. Massimile, tu sei anche impegnato nel nostro territorio, insomma, con un impegno politico, civile. Vorrei chiederti se anche per la nostra terra ci sarà un secondo tempo. Noi come cristiani abbiamo un concetto molto vero che è quello di speranza. E quindi è la speranza che ci sia sicuramente un secondo tempo. Guarda, prendo spunto dalla domanda di Paolo sul Nelson Mandela. Questa terra ha bisogno di riconciliazione. Siamo molto divisi tra di noi. Molti ambienti, anche del tessuto imprenditoriale, del tessuto produttivo, politico, sociale, culturale. Ci sono molti ambienti autoreferenziali che dialogano poco tra di loro. Si potrebbe prendere spunto proprio da quella intuizione di Nelson Mandela. Nelson Mandela temeva che una volta eletto presidente della Repubblica del Sudafrica ci fossero state faide di vendetta tra bianchi e neri. In realtà lui creò una cosa bellissima che erano i tribunali della riconciliazione della verità dove le persone che avevano subito attentati, oltraggi, maltrattamenti concedevano il perdono ai loro carnefici, che è un concetto molto cristiano, molto forte. Questa terra per ripartire non ha bisogno di soldi, non ha bisogno di finanza, ha bisogno di perdono, di riconciliazione, di dialogo, di tornare a guardarsi in faccia per fare squadra. Spesso questo non è così, perché ognuno vuole andare per la sua strada e questa cosa non ci porterà mai da nessuna parte. E poi bisogna investire tantissimo sui talenti in due maniere. Difendere i nostri talenti. Io vengo da Foggia. Foggia è una città che fra 30 anni sarà desertificata. Ieri parlavo con un sacerdote, lui mi diceva nella mia parrocchia non c'è un giovane sotto i 30 anni che non sia andato fuori da Foggia. E questo è un dato su cui confrontarci. Quindi difendere i nostri talenti e attrarre altri talenti. I talenti attirano idee, le idee attirano economia. Tornando, parlavi appunto di riconciliazione e speranza, quello che ha bisogno in nostro territorio. Ritorniamo a Nelson Mandela, perché davvero il suo esempio ci offre una guida preziosa su come affrontare il secondo tempo della nostra vita in modo sagace e trasformativo. Ci spieghi come queste sue lezioni possono essere applicate nella nostra vita personale? Nelson Mandela esce dal carcere. Era l'uomo più importante del mondo in quel momento. osannato, avrebbe potuto vendicarsi di tutti i suoi aguzzini, di tutti quelli che lo avevano tenuto lontano da amori, da affetti. Lui non aveva visto crescere i figli, aveva consolato un suo aguzzino che aveva perso un figlio in un incidente stradale. Avrebbe potuto dire beh adesso vi faccio stare io 27 anni in carcere. La sua grande intuizione è il perdono. Quindi l'inizio, la prima lezione che Nelson Mandela ci dà è che quando volge il vento favorevole nelle tue vele non devi peccare di superbia. Ma quello che hai passato nel primo tempo, le sconfitte che hai accumulato nel primo tempo, la tua frustrazione, devono essere la tua vera ricchezza per comprendere in maniera empatica chi adesso dall'altra parte sta avendo il vento sfavorevole. Questo è quello che Nelson Mandela ci ha insegnato. Se fosse stato un cristiano sarebbe stato sicuramente beatificato. Ci fermiamo per la pubblicità, facciamo qualche istante di pausa e poi continuiamo a parlare con Massimiliano Arena di questo secondo tempo che qualcuno, insomma, e che ciascuno di noi magari spera di vivere nella propria vita. Restate con noi. Il suo libro si intitola Il secondo tempo della tua vita è con noi in studio l'avvocato Massimiliano Arena, mental coach, avvocato familiare, avvocato di strada e mental coach. Allora, stiamo facendo davvero questo percorso interessante che ci sta arricchendo Massimiliano. Immagino che ogni persona che hai incontrato ti ha insegnato qualcosa di prezioso e ha contribuito a plasmare, potremmo dire, proprio una visione personale di ciò che significa superare una sconfitta e tu di incontri ne hai fatti davvero tanti. Sì, nella vita professionale, come dicevo poc'anzi, mi hanno colpito tantissimo, soprattutto le donne che vivevano in contesti domestici di violenza diretta o indiretta. La violenza non è soltanto quella lì fisica, ma è quella che ti priva della possibilità di avere relazioni sociali. Tu non esci, tu non puoi avere il telefono o se ce l'hai io devo controllare tutto, tu non puoi avere un bancomat o una carta di credito, i soldi te li do io. Una delle forme di violenza più forte è stata la violenza economica, cioè casi di donne che non erano libere di avere un proprio salvadanaio per cui ti servono i soldi della spesa te li do io e mi devi portare gli scontrini. Quella è una forma sottilissima di violenza perché significa che c'è un soggetto che soltanto statisticamente è l'uomo ma può essere in alcuni casi anche la donna, un soggetto che si ritiene superiore e padrone della tua vita, della tua libertà di avere una relazione sociale. Quindi mi hanno colpito moltissimo le storie soprattutto di donne che hanno avuto il coraggio di denunciare, di uscire di casa. Da ultimo una storia su Milano in cui il papà non faceva rientrare mamma e figlia in casa. Questa donna di origini locali si è dovuta prendere una casa, si è dovuta appoggiare presso amici per non far perdere l'anno scolastico alla figlia. Ora finalmente siamo riusciti a farla entrare in casa. Ma immaginate quanto è stato pesante. Però lì cosa ha vinto? Ha vinto la resilienza di questa donna. Il suo coraggio di vincere la paura dell'uomo. Perché poi la paura è qualcosa di fittizio. Spesso queste persone che si arrogano a dei diritti non propri nel momento in cui si trovano dall'altra parte una difesa strenua, quindi un avvocato arrembante, aggressivo e soprattutto un giudice che fa rispettare la legge, poi si evaporano come dei fantasmi. E lo stesso mi è successo nella mia esperienza di avvocati di strada. Lì le storie sono molto di più. Una su tutte, velocemente, il caso di un bracciante rumeno che fu investito da un trattore. Il proprio datore di lavoro non gli voleva riconoscere il risarcimento del danno. Iniziamo una causa. Lui con quello che guadagnò si è aperto un bar in Romania ed è tornato. Ogni anno viene qui con la famiglia a passare le vacanze e ci viene a salutare. Ecco, lui era uno condannato a una vita di stenti e poi avendo avuto il coraggio di denunciare il proprio datore di lavoro è riuscito ad emergere. Il secondo tempo della vita, appunto. In effetti noi abbiamo parlato di primo e di secondo tempo ma vorrei chiederti se esistono anche i tempi supplementari. Magari, assolutamente sì e anche i calci di rigore. C'è sempre... Il secondo tempo è qualcosa che non è mai finito. c'è sempre un altro tempo c'è sempre la possibilità di rinascere e questo lo dobbiamo affermare soprattutto come cristiani. Fino all'ultimo giorno della nostra esperienza su questa terra noi abbiamo il diritto e direi anche il dovere di cambiare la nostra vita e quell'altrui altrimenti sarebbe un'esperienza a fine a se stessa e come dicevo poc'anzi autoreferenziale. Hai parlato spesso di resilienza in questa nostra conversazione Massimiliano. Specifichiamo che questo libro non offre delle soluzioni e una formula magica come tu stesso hai detto per cancellare il passato perché probabilmente per fare meglio in futuro bisogna partire dal proprio passato però dà al lettore degli strumenti pratici dei consigli saggi proprio una guida amorevole per affrontare queste sfide personali. Sì, intanto mi piace quello che hai detto noi non dobbiamo cancellare il passato nel senso che il passato è la nostra fonte è il nostro banco di lezione e la differenza è tra chi impara e chi fa finta di non aver imparato. Io dico sempre un uomo o una donna non si misura dove è arrivato ma si misura da dove è partito. la carriera di una persona o le soddisfazioni o il successo di una persona non si misura dal traguardo per quanto mi riguarda si misura dal punto di partenza la distanza tra il punto di partenza e il traguardo mi dice chi sei veramente e quella è la narrazione. Tanto è vero che io nel libro sostengo che la moneta del futuro non sarà il bitcoin ma sarà la narrazione ciò che tu puoi raccontare di te stesso e quanto tu puoi spendere di te stesso quanto più spesso puoi spendere. Nel mondo del mercato del lavoro questo si sta affermando in maniera molto sistemica nei colloqui di lavoro i cacciatori di testa non ti chiedono più i titoli di studio ma ti chiedono cosa hai fatto da dove sei partita o da dove sei partito che esperienze mi puoi raccontare al di là degli studi perché chi ha se tu hai la laurea con cum laude 110 e lode come ce l'hai tu ce l'hanno altre migliaia di persone ma quello che hai affrontato nella tua vita è la tua moneta spendibile Build You è l'app lo stiamo vedendo anche nel nostro ledwall che aiuta a sfidare i limiti e raggiungere gli obiettivi di cosa si tratta? è la quello che dicevamo poco fa qualche secondo fa diventa un'app tecnologica smart che si può scaricare dagli stores di google e di ios in buona sostanza io lancio una sfida a me stesso voglio scalare l'everest voglio smettere di fumare voglio andare a messa tutte le mattine ingaggio una community che mi inchioda la responsabilità quotidianamente di raggiungere quell'obiettivo e in più posso anche acquistare la consulenza di un mental coach che mi aiuta a raggiungere quell'obiettivo tenete conto che i due giorni dell'anno in cui molti di noi fanno più promesse sono il primo gennaio e il primo settembre giusto nello 90% dei casi il 7 gennaio e il 7 settembre queste promesse sono fitte perché ce le siamo raccontati soltanto a noi stessi se invece noi ingaggiamo un gruppo di persone che si responsabilizza e ci responsabilizza e meglio ancora un coach o un angelo custode che ci aiuta molto spesso riusciamo a raggiungere questi obiettivi tenendo conto che la felicità per quanto mi riguarda per renderla in maniera molto semplicistica la differenza tra ciò che noi siamo e ciò che desideriamo di essere ecco se noi riusciamo a raggiungere ciò che desideriamo essere con l'aiuto di altri questo è Build You io lo sto già scaricando benissimo lo sto già scaricando Massimiliano dove i nostri amici sicuramente si saranno appassionati a quello che che hai detto dove ti possiamo seguire dove possono trovare il libro dacci qualche indicazione il libro me lo sono autoprodotto per cui al momento è disponibile soltanto su Amazon sia nella versione cartacea che nella versione ebook le librie possono ordinarlo ugualmente tramite Amazon e io sono disponibilissimo mi piace stare in mezzo alla gente per cui sono disponibile anche a organizzare incontri dove mi invitano sei sui social sono sui social su Facebook su Instagram e su LinkedIn io vorrei farti abbiamo giusto un paio di minuti una domanda Massimiliano il mental coach nello specifico perché noi abbiamo anche comunque una fascia di pubblico che è molto diciamo avanti con con l'età può essere utile in tutte le fasi della vita ma nello specifico cosa fa? te lo spiego con una differenza lo psicologo scandaglia il tuo passato per migliorare il tuo presente il mental coach studia con te il tuo presente per migliorare l'immediato futuro ponendoti degli obiettivi a breve medio termine e si lavora su obiettivi quindi non c'è nulla di patologico chi è molto avanti negli età può raggiungere ancora degli obiettivi anzi diventa la cosa più stimolante più rigenerativa e non c'è bisogno di un trattato di psicologia della terza età per spiegare quanto porsi degli obiettivi sia quanto di più vitale possibile nella fase ultima della vita che diventa secondo me la fase più giovane e più bella io penso che hai fatto un regalo grandissimo ai nostri amici perché tante volte insomma gli anziani hanno bisogno di qualcuno che gli aiuti a raggiungere degli obiettivi e che purtroppo magari uno non ci riesce per tanti motivi per pigrizia anche solo o per una rassegnazione avere un obiettivo è la cosa che allena di più la mente io ho visto nella vita di mio papà mio papà 30 anni fa gli avevano dato pochi anni di vita con la sua capacità di porsi sempre e obiettivi è andato molto oltre ogni più rosa e aspettativa degli oncologi qual era il suo nome? Vittorio Vittorio l'abbiamo chiamato tante volte papà però mi piaceva proprio conoscere il suo nome papà Vittorio Massimiliano che dire ci hai arricchito con questa tua testimonianza perché è sempre bello appunto poter ospitare persone che ti arricchiscono noi ci conosciamo da diversi anni ci hai raccontato spesso anche della tua esperienza di avvocato di strada quindi i nostri studi sono sempre aperti a tua disposizione quando vuoi torna a trovarci noi naturalmente ti inviteremo se sempre così disponibile aspettiamo il secondo il terzo libro il terzo tempo il terzo tempo ecco ti auguriamo insomma di scriverlo grazie ancora all'avvocato Massimiliano Arena il secondo tempo della tua vita ecco vedete la copertina del libro nel nostro led grazie ancora per essere stato con noi grazie andiamo in pubblicità grazie a tutti